Prende il via sabato 21 luglio 2012 alle 18.30 dalle sale espositive della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone l'iniziativa Contemporaneamente, il primo evento che sancisce la nascita di un sistema regionale per i musei d'arte moderna. Un progetto dedicato alla promozione dell'arte e in particolare alla valorizzazione degli artisti attivi in Friuli Venezia Giulia, l'assessore alla cultura Claudio Cattaruzza. La mostra rappresenta una duplice occasione, da un lato quella di presentare due grandissimi artisti del territorio come Palli e Balvasori che hanno fama e sono esposti nelle gallerie non solo italiane ma europee e internazionali e dall'altra è quella di costituire il primo appuntamento di questo tentativo che si è fatto fra i musei della regione, i musei di arte moderna, di formare una rete e quindi di scambiare le esperienze ma anche e soprattutto di ottimizzare quelle che possono essere iniziative, valorizzare gli artisti del territorio e soprattutto ottenere uno scambio di esperienze ma anche di opere d'arte che permettano l'allestimento di mostre che siano coordinate sul territorio. Abbiamo Balvasori che installa le sue composizioni sul tema del confine tra organico e inorganico, razionale e irrazionale. Sulle pareti abbiamo un grande mago distillatore del colore che è Mario Palli. anche lui si allarga, distribuisce queste sue forme modulari nello spazio e calibrando attraverso questa sovrapposizione di tele e di colore proprio il tono, la vibrazione suggestionando proprio percezioni diverse sia spaziali sia cromatiche. Grazie a tutti.